Il Tribunale di Enna ha assolto, con formula piena per non aver commesso il fatto, i 14 imputati del processo Double Game, nato dall'operazione antidroga, condotto dal commissariato di Nicosia nel marzo del 2013 e che coinvolse anche 5 giovani di Capizzi, mentre vennero indagati diversi giovani denebrodi. Il Collegio Vanale, presieduto da Francesco Paolo Piterresi e dai giudici Andrea Agate e Nelly Gaia, non hanno ritenuto attendibile il pentito Alessandro Minissale, arrestato nel novembre 2011, e ritenuto il fornitore di marijuana, anzi, dalle intercettazioni sarebbe emersa la loro totale stranità alle accuse. Il Pubblico Ministero aveva chiesto per gli imputati pene che variavano da 1 a 10 anni, tranne per la giovane Giulia Marano, ritenute strane alla vicenda da quanto è emerso già in fase di dibattimento. I 14 imputati assolti con formula piena, perché il fatto non sussiste, sono Simone Giovanni Aperi, Vanessa Aruta, Gian Domenico Bernanasca, Davide Calandra Sebastianella, Massimo Giacomo Fascetto, Francesco Fascetto Sivillo, Salvatore Calandra Scialacomo, Giacomo Catania Cerro, Giulia Marano, Salvatore Rocchetto, Luca Venezia, Paolo Contino, Enrico Messina e Giuseppe Paradiso. Sono stati difesi dagli avvocati Benedetto Ricciardi, poi gli avvocati Collodoro, Emanuele Gemellaro Gentile, La Ganga, Marletta, Mazzara Bologna e Spalletta. Nel 2014, sei spacciatori coinvolti nella stessa operazione antidroga avevano patteggiato la pena. L'operazione Double Game era stata condotta dal commissariato di polizia di Nicosia nel marzo del 2013 attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali, da dove erano emerse le figure di diversi giovani di Nicosia, Capizzi e Regalbuto, dediti allo spaccio e al consumo di droga. Accuse che però poi non hanno retto in fase processuale.